Brindisi, ecco Carter, il primo innesto del parco americani, colpo del direttore sportivo Gioffre. Dopo Biarnason in Lecce mette gli occhi su Elgason, quanti affari nel nord Europa sarebbe il secondo islandese. Virtus Francavilla, in grosso e prezioso, possono arrivare insieme è pronto il doppio colpo per i biancazzurri. Buon pomeriggio, bentornati all'appuntamento con l'informazione sportiva di Antena Sud85, TG Sport interprovinciale per Lecce, Brindisi e Taranto, che si apre con il basket. Primo colpo per il settore americano, come avete sentito dai titoli per l'Epicasa Brindisi. L'atleta americano Miles Carter ha sottoscritto un contratto con l'Epicasa Brindisi fino al 30 giugno 2023. Centro di 206 cm per 104 kg, nato nell'Ininois a Chicago il 15 maggio del 1997, è il reduce della prima esperienza in Europa nella Turkish Basketball League alla Bulldoganik. Alla media di 15,7 punti, 44% da 3,7,8 rimbalzi e 1,2 stoppati a partita. Il suo percorso cestistico parte dalla Santa Rita of Casha High School, passando per un biennio al Seton Hall del 2015 al 2017 e gli ultimi due anni di college alla Seattle University. Nella stagione 2018-2019 realizza 12,9 punti di media e 11 doppie, risultando il miglior stoppatore. Ed intanto D'Angelo Harrison farà un minicamp a Philadelphia per essere valutato per l'NBA in vista della prossima stagione. E al momento si tratta ancora con Nick Perkins, ma non c'è l'accordo ufficiale. Il Lecce invece continua a guardare in Islanda per il calciomercato. Il vento del nord. Lecce respira in affanno sotto i 40 gradi del Salento, il Lecce punta tutto sul nord Europa. L'ultimo calciatore presentato è stato Bjarna, sono un gioiellino del 99 che viene dall'Islanda. Ma spunta anche Elgason classe 2000, anche lui islandese, mezzala con buone doti offensive e con la capacità di inserirsi bene negli spazi. All'occorrenza può fare anche il centrocampista. Corvino ha chiarito, non sono scelte esotiche, ma legate alla qualità tecnica e alle prospettive. Calciatori importanti, insomma, idee alternative, ma nel senso giusto. E' il vento del nord che soffia già da un po' di tempo. In principio fu Zuta, svedese ma naturalizzato macedone. Svedese anche Bjorken, gran centrocampista bravo a fare le due fasi, già protagonista assoluto nell'ultima stagione. E che dire di Mortenjulman, danese di grande prospettiva, arrivato a gennaio e subito titolarissimo nello scacchiere di Corini. Sarà titolare anche quest'anno, ma studia da mezzala per giocare accanto a Blen. Meno esotico, ma altrettanto affascinante come ipotesi. Il vento del nord spira su Lecce, che c'è? Avete caldo? VIRTUS FRANCAVILLA, doppio colpo in arrivo. Doppio colpo in entrata per la VIRTUS FRANCAVILLA, come vi abbiamo rivelato in esclusiva nella giornata di ieri, è fatta per l'approdo di Gabriele Ingrosso alla corte di Roberto Taurino. Il terzino sinistro, classe 2000, è il primo tassello per le corsie esterne del campo. L'ormai ex imolese, che ha risolto il contratto con i Rosso-Blu e che da giorni ormai ha un accordo totale con la Virtus, firmerà un contratto biennale. Lecce Sedoc, cresciuto nelle giovani giallorosse, in Puglia vanta anche un'esperienza con il Cerignola, è stato preferito a Burgio, i cui tentennamenti hanno portato il club francavillese a virare lo sguardo altrove. Si attende soltanto l'ufficialità, quindi, come per il ritorno a Francavilla Fontana di Mario Prezioso. Il centrocampista, reduce dall'esperienza al Modena, è pronto a firmare con i biancazzurri, addirittura già nella giornata di domani dopo aver risolto gli ultimi intoppi burocratici. Anche in questo caso, oltre alla città che ha lasciato al talento napoletano grandi ricordi, decisivo è stata la presenza in panchina di Taurino, che lo conosce bene avendolo allenato da vice di Calabro nella stagione 2016-17. Uno scatto sul mercato della Virtus, pronta a chiudere una serie di operazioni per rinforzare la rosa. Capitolo difesa, c'è ancora un briciolo di speranza per Ida, mentre Cosenza resta il nome caldo. Decisivo sarà nei prossimi giorni l'incontro fra l'esperto difensore dei grigi e il nuovo direttore sportivo, Massimo Cerri. Il Taranto invece accelera per l'attaccante. Attesa nel breve le prime ufficializzazioni in casa Taranto, la Lega Pro ha provveduto ad abilitare la piattaforma online relativa ai tesseramenti. I contratti siglati perciò potranno essere depositati direttamente sul portale. I primi accordi, tutti di durata biennale, saranno quelli del DS Monterbino, del Tecnico La Terza e di Pier Giuseppe Sapio, nuovo responsabile del settore giovanile. Spazio nel breve anche a quelli relativi ai calciatori. Sul fronte riconferme tutto fatto per il rinnovo di versienti, mentre il primo volto nuovo dovrebbe essere il centrocampista Longo. Le trattative avviate o in fase embrionale sono in ogni caso tante. Tra i pali, Tchaikovsky dovrebbe rinnovare per poi essere girato in prestito in Serie D. Per la porta, il Taranto pensa a Tommaso Nobile, classe 96 ex San Benedettese, e Leonardo Loria, classe 99, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Il nome nuovo per la difesa è Gabriele Rocchi, classe 96, di proprietà dell'Avellino, mentre per centrocampo e attacco restano sempre in piedi le piste Bolzoni, Del Sole, Bursio e per ultima Saraniti. Sull'ex Lecce, tuttavia, elevatissima la concorrenza. Tra dieci giorni, intanto, prenderà il Pierraduro in sede che si protrarrà fino al 3 agosto. Dal giorno successivo, partenza per San Giovanni Rotondo, sede del ritiro precampionato. Il Brindisi, invece, presenta domanda di ripescaggio dall'eccellenza alla Serie D. Una domanda di ripescaggio presentata proprio pochi minuti fa. La scadenza era quest'oggi alle ore 14, quindi meno di un'ora fa, esattamente 51 minuti fa. È una scadenza rispettata dal club. Biancazzurro, Davide Cucinelli. Inviata tramite PEC poco dopo le 13.30 dal segretario brinisino Jacopo Sticchi, la documentazione richiesta dalla Federazione per la presentazione della domanda di ripescaggio in Serie D del Brindisi. Una corsa contro il tempo per chiudere la pratica e scadenza alle ore 14, sia sotto l'aspetto economico con il versamento del bonifico previsto, sia burocratico con l'arrivo in queste ore delle ultime liberatorie necessarie da parte di tutti i tesserati relativamente al pagamento fino alla mensilità di aprile. Per alcuni resterà aperto il nodo dei mesi di maggio e giugno, che però potrà essere affrontato in una seconda fase e non intralcia all'inserimento del brindisi nella graduatoria per il ripescaggio. Dopo l'invio della documentazione, la Federazione, tramite la Covisod, esaminerà gli atti inviati ed esprimerà il proprio parere entro la giornata di venerdì 16 luglio. In caso di parere favorevole, il brindisi verrà inserito nella graduatoria di ripescaggio, in caso contrario potrà essere presentato ricorso. Se tutto andrà come sperato dalla dirigenza brindisina, sarà poi necessario attendere la pronuncia definitiva sulle esclusioni ai campionati ed il numero di posti liberi per il completamento del numero complessivo previsto per la composizione dei nuovi raggruppamenti di Serie D. Il brindisi guarda con fiducia a questa soluzione, che riporterebbe la squadra adriatica a riscattare la retrocessione della passata stagione e guardare alla fase di composizione di dirigenza e squadra per il prossimo campionato. Ancora alcuni giorni di attesa, quindi, prima di poter lasciare alle spalle la difficoltà degli ultimi mesi e iniziare concretamente a programmare il futuro. Invece le altre di eccellenza si organizzano, primo waltzer di panchine, ma non c'è solo questo. Eccellenza Ison Fire, tra ufficialità e indiscrezioni, entra sempre più nel vivo quello che sarà il corso della prossima stagione. Il Martina, nonostante pur parlè dei giorni scorsi, ha deciso di accordare nuovamente fiducia a Massimo Pizzulli. Il lavoro del tecnico biancazzurro è stato apprezzato dai vertici societari, malgrado il mancato raggiungimento della Serie D. Sarà una squadra però profondamente rinnovata, più di categoria e meno di nomi. Cavalli di ritorno a Castellaneta e Ostuni. Al timone biancorosso tornerà Lino D'Alena. In giallo blu riecco Angelo Serio con il DS Paolo Marzio confermato nel suo ruolo. Alla ricerca di un nuovo allenatore, il Sava. Ufficiale già da qualche giorno, infatti, la separazione con Gioacchino Marangio. Volgendo lo sguardo verso il nord Puglia, il città di Mola ripartirà da Vito Castelletti. Attese novità, infine, a Barletta e Corato. Difficile che Farina rimanga in biancorosso. A tal proposito circola il nome di Danilo Rufini. Più percorribile l'ipotesi conferma in neroverde per Scaringella. Era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata dalla redazione sportiva di Antenno Sud 85. Grazie per averci seguito e per averci seguito.